Io, la vostra vitridente di fiducia, millennial geriatrica, ancella del disagio, chi volete voi, con lei che esplora tutte le sfaccettature del disagio odierno, passato, futuro, così, per ricordarci che al mondo comunque dobbiamo soffrire. Questa puntata, molto calda, molto hot, un argomento anche di attualità in trend topic, ovvero parliamo di thread wife, allora sarebbe thread wife che è traditional wife, ovvero moglie tradizionale, poi ci sono traditional wives al plurale in inglese ma in italiano non si pluralizza la lingua straniera e quindi è sempre thread wife. Io sto a un livello di disagio altino in questi giorni, vi confesso, fatico a mettere, a organizzare tutte le cose che devo fare, mi creano forte ansia, c'è un principietto di depre che mi spinge come quando devi fare la cacca, presente? Che bello inizio di puntata! Per fortuna che in questa puntata c'è un ritorno di ospite graditissima, lei è una divulgatrice, una scrittrice, un sacco di cose bellissime, Sara Barberis è anche una disagiata di livelli altissimi, quindi io sto a un 8-9, vedremo come sta lei, sigla! Questo è un podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondo geniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. La mia ospite di oggi non veste normalmente i panni del disagio tematico della puntata, ma in esclusiva per noi ha pensato bene di adottare un metodo anche abbastanza complicato, però che richiede un certo dispendio energetico, ovvero quello dell'immedesimarsi appunto nella Threadwife per capire bene il fenomeno e poi discutere del disagio casalingo, disagio faccende di casa, eccetera. È con noi Sara Victoria Barberis. Ciao cara! Ciao tesoro, grazie per avermi invitato. Felice come al solito di essere qua con te. Eh, in realtà esatto, tu sei un comeback, uno dei più graditi, perché io so che vengo da te e ti dico oh, hai presente sta cosa qua? E tu mi dici sì, oppure no, e poi da lì nasce un mondo, cioè la tua… A te il delirio e a lei. Sì, sì. E so che capisci la mia esigenza di esplorare un ambito di disagio, quale per esempio questo delle Threadwives. Ma secondo me dentro di noi ci sono due Threadwife che aspettano solo di sbocciare. Magari a 80 anni ma aspettano di sbocciare. Cioè che si nascondono, stanno zitte, dicono sì sì, fai tutto quello che devi fare, sì, viva il femminismo, poi io ti aspetto al barco, tipo. Ma perché ce l'hanno impiantate, no? Perché ce le abbiamo. No, no. No, no. E purtroppo oggi ti porterò la mia solita tesi conservatrice repubblicana trampiana. Ed è, finirà, finirà offese, finirà offese anche questa puntata. Finirà a padellate. No, io oggi ti porto il tema delle ovaie dell'utero, te lo dico. Va bene. E lo affronteremo insieme, come tutto, democraticamente. Prima però ti chiedo a che livello di disagio della Scala Spears ti troviamo oggi che registriamo questa allegra puntata con una Scala Spears un po' appunto rivisitata nel senso che doveva starci nella grafica di una maglietta. E quindi da 13 livelli siamo ritornati a 11 e passando ovviamente da 1-0, 1-2 di una Britney bambina nel Kentucky che va a Zonzo e balla però non sa cosa succederà, no? Cioè proprio ignara. Ha una Britney che va verso, dice, ah però sono una stella del basket, ma anche una bravissima cantante e ballerina, prende lezioni di canto e di ballo, si affaccia al mondo di talent locali, show nei salotti dei parenti. Quindi siamo a un 5-6 di lei che va, effettivamente fa il Mickey Mouse Club, incontra Justin Timberlake, Cristina Ghiniera, Ryan Gosling. Cioè la cosa comincia a farsi concreta e lei già da libro suo dice ero indecisa se volevo tornare a casa a giocare a basket ed essere innocente o fare quella strada lì. 7, Hit me baby one more time perché alla fine i genitori hanno detto no no, tu devi farci la P, la Britney. Con Justin Timberlake tutto quello. 8, Kevin Federline. 9, Un figlio via l'altro della serie, vabbè il matrimonio è così che si salva. 10, TSO paparazzi rasata. 11, è quello della salvezza, nel senso che lei adesso libera dalla conservatorship, dopo tutto, secondo me sta bene adesso, io sono convinta di questa cosa. Balla né in suo salotto, scusa ma se tu avessi disponibilità economica che c'è lei, cosa faresti? Lei balla nel salotto nuda coi coltelli finti che è a livello 11. Ora che mi ci fai pensare è veramente, è totalmente così. Effettivamente non avrei, cioè non avrei altre risposte. Allora io pagherei le tasse tutte, mi toglierei il suo problema per sempre e via, e però poi mi riempierei di cani, cosa farei dalla mattina alla sera? Dal letto. Cioè, no magari io no, però magari io no perché io non sono Britney Spears, ma lei è quello che sa fare quello lì, cosa deve fare? Ha sempre fatto quello, si diverte, vale ma... Eh, un giorno sì, un giorno no, in Messico, su uno yacht, alle Bahamas, in bikini. Ma è lei? È lei? Eh, va, Gesù Maria ti prego, anche tu no. Però a me quella dei cospiratori mi diverte sempre, tipo, lo vedi che... Ma anche quelli delle foto di Kate, poverina, mi aiuti. Adesso c'è quelle di Kate. Ma io non la capisco, cioè la gente veramente c'ha tutto quel tempo? Guarda a me che tu ho appena fatto una scala Spears del disagio. Ho capito, però... Figurati se la gente non ha tempo. No, tu fai di Britney un servizio speciale, cioè nel senso, no, lo monetizzi. Non so se lo monetizzi, magari lo monetizzi. Lo monetizzerò. Questo benedetto merce che deve uscire con le magliette della Scala Spears, però... No, ma infatti lì io... Sì, sì, il merce è brava, perché il merce è la svolta. Ma tornando a noi, perché se no io e lei qua prendiamo... Allora, su Scala Spears, in questo momento, con te, sono... Con questo marzo così bastardo, imprevedibile, mi sento molto nel Mickey Mouse Club, in cui diciamo... Ehi, ci stiamo divertendo, eh? Ah, che strano! Chissà cosa sta per succedere, capito? Sta primavera che dice... Figo! Ed è a un passo dal collasso. Però... Giusto. No, no, è corretto. Mi sento di... di essere anch'io più o meno un cinque. Tu sei Cristina Aguilera, con la voce più talentuosa di me, ma io mostrerò le tette, quindi avrò più successo di te. È un po' il senso è quello. Però anche Cristina dopo lo farò. Guarda che la Britney era una grande cantante, prima che le dicessero... Devi cantare così, perché sei più sexy. No, no, dai. Amo non c'ha mai avuto la voce di Cristina, dai. Vabbè, ok, nessuno c'ha la voce di Cristina, ma era una cantante dignitosissima. Cioè, che poteva cantare. No, non sei convinta. No, no, no. Oh, ma guarda che gli Stati Uniti hanno fatto Mariah Carey, Cristina Aguilera, anche quell'altra, com'è che si chiama lei? Ariana Grande. Pure Ariana Grande c'ha una voce incredibile. Incredibile. Sì, sì. Quelle lì che fanno poi invece i successoni, e mi dispiace ve lo dire anche Taylor Swift, perché secondo me Taylor Swift non ha una gran... Cioè, no, no, siamo d'accordo. Però loro incarnano invece, quella di cui parliamo oggi forse, è il sogno erotico della bionda. Sesso, è solo sesso. Cioè, è proprio un'altra cosa. E comunque è vero che, no, è comunque vero che, adesso mi ci fai pensare con tutto che Taylor Swift ha il potere, e lo dissi in qualche puntata fa, di muovere addirittura il voto degli americani, tutti se la contendono per i partiti, e lei invece dura e pura resiste nel suo non esprimersi, e ricorda, cioè, alla fine l'idola delle masse è sempre comunque una donna che ha un po' dei tratti, come dire, tradizionalisti. E tra l'altro, adesso, lei è recentemente accoppiata con quella montagna umana di giocatore di, cos'è, football americano, e la gente non vedeva l'ora di vederla con uno, è questo che mi ha fatto grande tristezza, cioè, finché frequentava tipi che non corrispondevano al canone, lui grosso e protettivo, lei fragile e come un giunco tra le sue braccia, nessuno era contento, adesso è questo qua che la può prendere e spezzare come uno stuzzicadente, sono tutti giù di testa per questa relazione. No, ma è come quando trovi il punto del puzzle giù, il pezzo del puzzle, e si incassa, e dici, ah, sì, quello qui. Sì. È un po' andata così. Nessuno si sta informando su… perché a me lui invece personalmente uno che fa football americano, già di base, mi sa di uno che abbia dei momenti di rage incontrollati, cioè che… Ma quelli purtroppo fanno parte dell'allenamento. Eh capi… esattamente quello, cioè che quando torna a casa, dammene uno, dammene due, dammene due, dammene… Dove è il mio purè? Sì. Esatto, quindi io rimango scettica, però tutto il mondo invece sembra dire, ah, finalmente l'amore. E perché corrispondono a quello stereotipo che le nostre amiche Threadwives di cui parlavamo, di cui parliamo oggi, grattano un prurito profondissimo. Il problema è iniziato, il problema della Threadwife è sicuramente come sempre nel contesto statunitense un frutto marcetto della politica, nel senso che ovviamente con l'esacerbarsi del fenomeno, cioè con il polarizzarsi del fenomeno di un certo tipo di femminismo che reclamava un certo tipo di… ma Frideni… cioè tante cose che sono successe, una dopo l'altra, si sono aperte le gabbie di tutti i possibili femminismi, cosa succede? Marzo 2023, le search su Google di Threadwife sono aumentate del 550%, cioè una roba… perché tutti… e ovviamente sta roba… la definizione Threadwife è nata su 4chan, che è una di quei… Avevi dei dubbi, avevate dei dubbi… Ma lì comunque nasce della roba, c'è la mia potenza… Perché comunque… Pisa nel… se sopravvive l'universo nel… non so, nel 3500, quando diranno che è una fonte dei fenomeni culturali e storici del 2020 in su, era 4chan. Allora, c'è un certo tipo che non riusciva mai a scupare… sui libri di storia, no? E tutti gli uomini si identificavano in lui e quindi poi nascevano… E si ritrovavano nella gilda del 4chan, nella corporazione medievale del… Niente, comunque 4chan, per chi non lo sapesse, è un acervo di odio per le donne… Sì, di uomini frustrati… Ma sì, di grande frustrazione, purtroppo secondo me anche… Cioè, io nel senso ho grande compassione per… esistono fette, fette, fette di… Soprattutto di gen… guarda, anche insospettabilmente di gen Z… Anche di gen Z ce ne sono di… Sì, sì, sì… Ed è qua che io e te ci allontaniamo, perché l'epatia e tenerezza nei loro confronti è proprio zero o meno… Ma perché? Ma niente che… niente di umano mi è strano, diceva John Donne… Se suona la campana suona anche per te… Quindi tu nascondi un incel dentro di te, ma non lo sai… Cioè, è ovvio… Dove c'è un incel c'è un desiderio d'amore sconfinato… Sconfinato… E va bene, ok, ma… in questo siamo uguali tutti, sono d'accordo con te… Poi però c'è chi come me va in terapia e c'è chi come loro va sui forum a dire che le donne sono tutte puttane… Capisci che c'è un po' di differenza… Sai, ognuno ha quella sua oretta nella giornata che investe liberamente dove non ci sono attività produttive o ricreative… E dice, vabbè cosa posso fare… Ed è lì che faccio fatica a dire, ah no, siamo sulla stessa barca, io e te… Allora, qua introduco il primo punto che secondo me, che mi ero formata nella mia riflessione sulla thread wife, è che la thread wife… Ascolta, seguimi un attimo… Nasce come conceptus, proprio come creazione dell'immaginario maschile di un certo tipo, no? Ma che dice, sono assolutamente d'accordo… Ah, qualche traia basta con queste donne del conceptus che fanno… che urlano, che mi odiano… No, io voglio una thread wife… Ok, la voglio vestita in un certo… La voglio con l'abitino, il grembiule… La voglio a casa… La voglio che mi fa la farina mungendo dalla mucca… Non so come si faccia la farina, forse non si mungere la mucca… No… Ma niente… Voglio che sia… Sorrida a chi quando torna a casa mi ami e mi faccia la pie con la mela e mi faccia un pompino… Chiusa lì… Giusto… Hai descritto direi perfettamente… Questo è il profilo della thread wife… Che è un grande desiderio e una grande proiezione… Quando poi però è arrivato a questo concetto… La femmina che ha passato… L'esemplare di femmina che ha passato un po' di tempo in ambienti di merda tipo un ufficio, multinazionale… Qualsiasi… Ma anche un supermercato a fare la cassiera… Ma anche la catena di montaggio a fare l'operaia… Ma… Si è fermata un attimo… Ha detto… Effettivamente non ci avevo pensato… Ma essere un maschio produttivo… Ma essere… Partecipare del mondo produttivo che appartiene storicamente e tradizionalmente alla mascolinità… Fa schifo… Perché i maschi tra di loro fan cagare… Guarda… Sfondi una porta aperta… Non ti contraddirò mai in questo… E quindi quello che io ti dico è che molte donne ho detto… Ah thread wife… Cioè… Sto a casa… Faccio la torta… Curo i bambini… Chiamo amica… Bella lì… Poi no… Perché thread wife… Ovviamente gli americani sono iperperformativi… E hanno detto… No 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 no… Thread wife… L'esempio mio di thread wife è… La conosci ballerina sparm? Ballerina… Sorseggia un sorso di caffè… Perché deve… Sono veramente felice di essere la prima a parlarti di ballerina sparm… Ho un po' paura… Però… Sono qui… Per questo… Per imparare e condividere… Ballerina sparm… Do… Do millions… Followers… Una roba del genere… Ovviamente… Ovviamente… Siamo nel… Vermont… Rurale… Eh? Casa costruita… Dal marito… Mattone su mattone… Ok… No no… Assi di legno… Stercoli… Quelli che danno giù… Che danno giù col primo temporale della… No no… Gliel'ha fatta a seria… Aspetta… Gliel'ha fatta a seria… Lei… Lei è… Si chiama ballerina sparm… Al secolo… Jane's alla Madonna… Chi lo sa… Mary Jane… Qualche cosa… Ex… Ballerina… Della Carnegie… Di New York… Clamorosa… Modella… Modella… Fatta stampata… Alta 1 metro… E 80 milioni… Eh… Capelli biondi… Che non fanno così… Ma fanno… 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 Fanno una… Fanno una… Ciocca splendente… Color dell'oro… Capelli color dell'oro… Ehm… Sei bambini attaccati come delle scimmie… Addosso… Uno sotto… Ah… Dai quali… Tra l'altro… Da ogni gravidanza… Fatta probabilmente in casa… Ha recuperato tranquillamente… La sua forma fisica… No… Dai quali… Prima si è mangiata la placenta… Perché la placenta fa bene… E va… Vedo che sei molto ferrata… Tu hai seguito tutti gli step… Cioè… Non lo so… Magari se si mangia la placenta… Non lo fa su Instagram… Però queste qui che fanno i party in casa con le dule… Si tengono la placenta… La seccano… E ci fanno le pillole da… Da mangiare… C'è da prendersi… Nel corso degli anni… Perché ti allunga la vita… Ma questa è un'altra puntata… Disagio placenta… Se vuoi la facciamo… È un'altra puntata… Disagio gravidanze folli… Ok… E lei… Ballerina's farm… Cinque bambini… Uno aggrappato sulla testa… Cosa fa? Si sveglia la mattina alle cinque… E sta lì… Va nella sua cucinetta piccolina… Fatta tutta di… Utensili di… Iron cast… Come si dice… Utensili di ferro… Così… Vuoi la mozzarella? Vado a mungere la mucca… Perché so come si fa il latte… Si mungi la mucca… Così come si fa anche la farina… Vado a mungere la mucca… Mi porta… Si porta… Prende… Dei mastelli di dieci litri di roba… Con delle braccia che… Io non so come cazzo faccio… Comunque… C'ha una forza disumana… Perché nel frattempo… Sta anche portando cinque bambini addosso… Ebbè… Certo… Perché questi bambini… Nessuno di loro è autonomo… Sono tutti… No… Sono lì che la mangiano… La leccano… Mangiano le robe che sta cucinando… Tutti che mettono le mani ovunque… Le toccano le tette… Stupendo… Aiuto… Stai scrivendo… Io sai che non avevo mai… Io… È una vita che rifletto su quale potrebbe essere l'inferno per me… È una vita che pensa all'inferno… Perché ci sono diverse opzioni, no? È una vita che pensa all'inferno… Sì, sì… Beh, ci andrò sicuramente… Quindi è una vita che… Penso… Per il contrapasso… Quale sarà il mio inferno… Perché a seconda dei periodi è… Che ne so… Una stanza piena di gente che mi parla di calcio… Per dire… Oppure… Capito… E quindi… Credo che tu mi abbia appena creato una nuova… Un nuovo scenario… È tipo il girone… Delle… Sì… Non lo so… Di quelle che non hanno mai volute avere figli… E non li avranno mai… Esattamente… Con i figli che si arrampicano… Esatto… Si arrampino e ti strusciano addosso… Oppure ti dicono… Cosa è questa mamma? Perché? 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 Poi sono io in una stanza con te… C'è un certo punto… Vabbè… Ma comunque… Lei torna con questo mastello di latte che sa di… Stalla… Ma è bellissimo nelle sue mani… Nelle sue mani è bellissimo quel latte… Perché è d'oro… Come lei… Tutto intorno a lei brilla… Ok? Tutto… È stupendo… Perché anche nel rural… Lei è… Lei nel frattempo non ha… Cioè io sono qua ferma… E ho già i capelli sparati… Lei niente… Lei ha appena lottato contro un bufalo… Ed è… Anche nella stalla… Certo… Profumo… Io la sento il suo profumo… Profuma… Ok… Lei mette il misurino del caglio… Fa fare il caglio… Lascia lì… Poi leva il telo… Prende sul formaggio… Ci fa una mozzarella… Che neanche a Vico e Quenze tirano fuori… Fa una mozzarella… La caglia… La fila… Capito? La fila che tu vedi… Ma poi scusa… Scusa… Ma da quando in qua in Vermont fanno le mozzarella… Ma che cazzo… Ma da quando in qua in Vermont sanno come si fa la mozzarella… Porca miseria… Ma è quello… La thread wife è una thread con il cellulare in mano… Sa tutto… Capito? Lei se vuole fare la mozzarella… La fa… Vuole fare il piennolo del pomodoro del Vesuvio… Lo fa… Sul Vermont… Capito? Lo fa… Fa la conserva che neanche mia nonna… Era così brava… Fa delle intere barattolate… Poi fa la mozzarella… Aspetta… Aspetta… Non è contenta… Vai… Vai… Prende la farina… Che ha schiacciato mentre dormiva… Forse… Non lo so… Con il mattarello… La pesta… Ne fa una polvere degli angeli di Dio… La mescola… Ci fa… Fa il sourdough… Non fa neanche il pane normale… Come faremmo noi… Che stiamo veramente… Delle poveracce… Lei fa il sourdough… Che ha lievitazione… Ha pasta acida… Che non fa male… Che garantisce un intestino… E fa passare le colichette ai bambini… Cioè… Tutto disegnato… Ci fa… Poi… Non contenta… Si mette il grembito da Michelangelo… Quando… Io ho provato a far lievitare della roba… Con me lievita solo il giramento di coglioni… Cioè… Con me… La pasta rimane ferma… Lei con lei invece… L'obbediscono… Lei fa così… E la pasta fa così… Capito? E lo sai che io e te… Siamo quel tipo di donna… Che… A cui in Giappone… Non farebbero fare il sushi… O in Italia… In tempi antichi… Non facevano fare il formaggio… È vero… Perché… È certo… Perché… Per via degli ormoni… Delle emotività… Che si trasmette… Nelle robe… Che tocchi con le mani… A noi non è… Non è… Io neanche però… Mi do il permesso di fare… Il sushi… Cioè… Nel senso… Io le piante… Non le prendo… Perché muoiono… Mi è andata bene… Che si farei il caffè… Caffè… Ok… Non lo so… Anch'io non so quanto… Sarei effettivamente… In grado di… Curare il formaggio… Fatto sta che… Invece lei controlla… Anche appunto… Il suo livello ormonale… Nel momento in cui… Deve farle evitare… Poi soprattutto… Una gravidanza dopo l'altro… Quindi comunque… Gli ormoni… No ma aspetta… Dei panetti… Che hanno… Hanno misurato… La circonferenza del mondo… Sulla precisione… Con cui lei fa sti panetti… E poi dopo… Prende un bisturino… E ci fa… La primavera di Botticelli… Sopra di disegno… Perché sai questi… Questi qua… Hai visti no? Cioè… Questi sul pane… Fanno i disegnini… I fiorellini… No figa… Lei ci fa i ritratti dei suoi figli… Cioè… Ci fa le visioni… Vabbè… Poi mette tutto in forno… In queste… Gigantesche pentole… Che io solo a vederle… Cioè ti giuro… Pesano come delle incudini… Perché sono quelle di ferro… Che fanno… La cottura… Cioè la… Sai la padella… Che tu metti il coperchio… E la infili in forno… Certo… Lo so perché l'ho visto su un video… Ma non perché io l'abbia mai fatto… In vita mia… Ma chiaro… Tutto questo… Lei sta maneggiando fuoco… Caglio… Mentre i bambini ovviamente… Le saltano addosso… Stanno lì… Rovinano… Mettono le mani dentro la pasta… Ma lei comunque va avanti… Senza dire… Beh… Non dice mai… Che cazzo stai facendo… No… Perché tra l'altro… Lei applica il metodo Montessori… Tipo… L'educazione dei figli… Il gentle parenting… Quella roba lì… Quella roba lì… Ma poi col cellulare… Che io… Nel senso… Cioè io avrei già distrutto… Ma non fa niente… Comunque lei prosegue avanti… Fa sti panini… Con le polpette… Perché nel frattempo… Noi ci eravamo distratte… Ma lei aveva fatto… Tre chili di polpette al pomodoro… Non è una donna… È la dea Calì… Che con 18 mani… No… Poi fa tutto… Fa così… Poi… E nel frattempo… Dopo che… Mentre sta aspettando che il pane… Va a vestire i bambini… Lì poi… Vesti i bambini… Che sembrano i cherubini della vita… Poi… Arriva il marito… Prende la roba… E mangiano… E questa è la scena di tutti i giorni… E con lei si fa un bucio di culo indicibile… È una roba indicibile… Ma… La domanda però è… E dove è stato il marito a tagliare la legna… Mi auguro… Allora… Il marito è andato a guadagnare la pasta… Lei… A guadagnare la palta… Cioè a guadagnare… Mi sa… Allora… Non ho capito… Perché è misterioso… Allora… Da un certo punto… Siccome la gente se non può rompere il cazzo… Deve rompere il cazzo… Ha detto… Eh… Abbiamo scoperto qual è il retroscena di Ballerina's Farm… Tipo che suo papà possiede una… Una linea aerea… E quindi… Ah… Tu fai la poverina… Ma invece… Ah… Solo… Ok… Ok… No… Allora… Io sarei stata… Cioè… Non attivamente… Perché mi rifiuto di trollare gente che non conosco… È una di quelle cose che ho detto… Io no… Io no… Quella roba lì… Però… No… 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 E invito la gente a non farla… Anche perché i trono fanno altro che fomentare il successo di questa gente qua… Eh… Però sarei stata una di quelle… Io vedo queste robe qua… Che sia la Threadwife… Che sia… Quelle che sai che hanno le… Spend the day with me… Get ready with me… E si svegliano truccate… Sono vestite sempre con… In palette… Fanno… Vanno a correre alle 6 di mattino… Poi si fanno però il caffè in casa… E poi vanno con le amiche a fare brunch… Cioè… Riescono a fare in un giorno quello che io non riesco a fare in un mese e mezzo… Io subito penso… Non è vero… Io sono una di quelli… Ma… Io non so… Allora… Sì… Ok… Dubbio… Ma soprattutto perché tu mi fai vedere queste cose… Cioè le devi… Le devi mettere in scena, no? Quindi devi mettere un cellulare… È certo… Cioè… Perché tu sei molto… Tendi ad essere molto empatica con tutti i tipi di essere umano… Che si… Che ti si propongono lungo il cammino… Tu dici… La Threadwife… La capisco perché se devo scegliere tra… Fare il Get ready with me in un cubicolo… Da un cubicolo grigio a un cubicolo grigio… Almeno… C'ho la fattoria nel Vermont… Eventualmente… Cioè… Eventualmente… Vengo dissipata… Tutte le mie uova vengono usate per fare i bambini splendidi… Tutte le mie idee… Cioè… Però… Guarda che… Oltretutto… La ballerina Spharm… Attenzione… Perché… Anche lì… Non stiamo mai considerando il fatto che sta gente qua… Comunque… Vuoi che magari lei ha iniziato per sbaglio… Dicendo… Ah mi diverto… Faccio un video… Ok… Va bene… Può anche essere iniziata così… Però il cazzo… Cioè… Lei… Ha fatto un business… Perché mo… Questa qui… Fa le carrettate di Stipani Sourdough… Con i disegnini sopra… I formaggetti cagliati dalle sue manine… Lei li vende a peso d'oro a New York a un certo punto… La storia… No… No… Infatti… Ma infatti… Trad wife… Trad wife… Il cazzo… Esattamente… Brava… Esatto… Quella lì… Il grande inganno… Cioè… Se tu mi vuoi rivivere e rappresentare… Incarnare un certo tipo di… No… Di modello di vita… E di cose… Poi non mi puoi fare l'imprenditrice di te stessa… Perché mi va contro… Te… Che vivi in funzione della tua famiglia… Di tuo marito… Dei tuoi 18 figli… No… Inevitabilmente… La società in cui abiti… In cui vivi… E che… Che ti porta poi a fare determinate cose… Ti porterà a cambiare la… La natura del modello che vuoi incarnare… E a un certo punto avrai bisogno di aiuto… Cioè… Lei ancora però… Hai la netta sensazione che stia facendo tutto in casa… Così come… Però… Giustamente… Arrivò a un momento in cui diceva… No dai… Cioè… Come fai… No… Non lo compro nemmeno dal giorno 1… Aspetta… Ti dà il dettaglio migliore… Sai perché hanno fatto questa scelta di vita loro due? Quando… Vai… Perché sono diventati mormoni… Eh vabbè… Eh vabbè… Allora… Questo era l'incipit però Sara… Eh scusa… Non puoi lasciarla per ultima… Questo piccolo dettaglio… No di lei… Te ne accorgi dopo… Perché te ne accorgi quando comincia a fare i video di… Stamattina andiamo in chiesa… Eh… Col carretto tirato dall'asino tipo… No… No no no… Quelli sono gli Emish… Ah scusa… Hai ragione… Perché anche io confondo sempre i mormoni e i Emish… Eh… Gli Emish sono quelli del 1700… No insomma… No elettricità… No internet… I mormoni sono quelli che tipo… Il capo di uno dei gruppi mormoni aveva 20 mogli tutte minorenni… Cioè era più… No no infatti sono peggio degli Emish i mormoni… Molto peggio… Perché poi… Sì sì… Sono super… Cioè… Sono veramente discutibili… Poi… Per carità… Cioè… C'è anche gente che ha trovato grande benessere… Però… La domanda che io ti faccio è… Io non credo… Cioè ripeto… Io non credo che possa essere vero veramente tutto… Cioè è impossibile Sara… Nessun essere umano… Eh… Dotato di… Ma anche solo un minimo di emotività per dire… Può reggere un ritmo del genere per quanto tempo al massimo… No ma lei… Tu… Tu sottovaluti il potere di Dio nella vita delle persone… Lei al massimo nei momenti di crisi nera fa così… Si passa una mano sulla fronte… E questa è la crisi ed è finita qui… Io ho grande fede in ballerina Sfarn… Quando l'ho vista ho detto… Vai amica fammi vedere dove possiamo arrivare… E voglio vedere dove andrà a arrivare… Io voglio vedere… Nella strage familiare… Strage di sette angeli d'oro… Tutti fucili… Poveri… No… No non glielo auguro mica a sti bambini… Ho capito che non glielo auguri… Grazie… No tra l'altro se vai a leggere le biografie… Io sono una fan delle biografie… Di quelli usciti da queste situazioni qua… Perché questa non è… Dalle storie quelle… Eh… Sono bellissime… Settazione settaria… Camuffata… Dalla patina di Instagram… E… E del… Guarda com'è tutto bello… Com'è tutto… No… Patinato… E dorato… Poi questi bambini sono quelli che se ce la fanno e scappano di casa tipo a 18 anni… Vanno a prostituirsi per guadagnare due soldi… E poi… Il crack… E vanno ai gruppi di recupero… Ce la fanno e scrivono il libro che io leggerò… E mia madre la sera ci fustigava… Non mangiavamo per tre giorni… No Sara è impossibile… Cioè io non… Non lo so… Vediamo… Perché lei invece mi sembra molto dolce… Invece io credo in lei… Sono io che sono cinica… Ok… Sei cinica… Sei proprio cinica… Tu Sara sei molto brava… Perché sei un po' un'accademica… Quindi te la sei buttata sullo studio della Threadwife… Mi sei andata a vedere questa ballerina Sfarm… Ce l'hai proprio… Ce l'hai fatta vivere… Devo dire… Attraverso il tuo racconto… E… Però appunto qua ci si auto… Sputtana… Quindi anche le cose tue poi vanno tirate fuori… E mi hai detto che… Hai fatto questo esperimento… Cioè tu sei andata a fare la spesa… Perché va fatta una premessa… Aha… Io è da quando ho un rapporto con un essere umano… Con cui siamo innamorati… O con cui siamo… Diciamo così… Cioè ci siamo accoppiati… Diciamo… La premessa è che nella nostra relazione ci sono una serie di incognite e cose particolari… Che stiamo ovviamente… Che… Che nel tempo abbiamo capito che… Per esempio io… Non posso lavare i piatti… Perché li lavo male… Ok… E quindi il mio compagno mi ha detto… No no… Faccio io… Capito… Quindi… Il problema mio è essere risolto… Però è… A un certo punto io vorrei… Non dover procacciare soldi e reddito… E vorrei essere sua moglie… Ma non lavo neanche i piatti… Quindi… Non ho neanche una moneta di scambio… Non sono neanche bravissima nel sesso orale… Quindi dico… Cosa posso darti amico mio… E poi diciamocelo… Cioè… Nell'arco di una giornata… Quante volte il sesso orale può giustificare attività… Diventa proprio… Non so come dire… A livello pragmatico non è possibile… Io so di amiche… Dopo pranzo… Sempre… Però… Amiche che sono a livello thread wife… Anche con la piega… C'è tutto… Hanno anche i vestiti… Nel senso… Eh ho capito… Però poi… Ok… Però poi vuol dire che tutto il resto ci pensa lui… Cioè… Gli faccio quella roba lì dopo pranzo… E quindi poi… Piatti… Spirapolvere… Bucato… Spesa… La lavatrice gliel'ho rotta… Quindi anche la lavatrice off limits… E… Cioè… Io poi… Grazie a Dio… Io invece non faccio la thread wife… Ma faccio la thread daughter… Cioè… Mi sta insegnando come si pulisce la doccia… Lui è uno di quelli che pulisce la doccia con il… Sai no? Lo spannatore… No? Con il tergicristalli… Certo… Certo… Lo fai? No… L'ho comprato ma non l'ho mai fatto una volta in vita mia… Io se non lo faccio vengo redarguita… Ok… Ok… Ma… Che è sempre ottimo per avere una relazione… Esatto… Cioè… È brava… Lo consigliano… C'è la terapeuta che ha detto… Oh… Finalmente… Brava… Complimenti… Bella scelta… Però… A parte questo… Io mi sono detta… Vabbè… Proviamo a fare questa cosa… Che vado a fare la spesa come se fossi… Solo una casalinga… Per cui… Aspetta… Anche fare la spesa è una di quelle attività che ti vengono proibite perché non sei in grado? Assolutamente… Perché torno di solito senza le cose… Scusa ma aspetta perché allora è più interessante… Cosa ti è permesso fare in casa senza… Te l'ho detto… Te l'ho detto… Io faccio il caffè… Ma tu non hai idea di che spacca cazzo c'ho in casa io… Tu non te lo puoi immaginare… No… Non te lo puoi immaginare… Ok… E di solito mi viene proibita la spesa perché in quanto donna spendo troppi soldi… Perché non prendo le cose che lui mi ha detto nella lista… Ne prendo delle altre… Ci siamo? Sono… Sì… Sono combattuta tra l'essere vagamente eccitata da questo suo essere dispotico e dittatoriale… O chiamare il telefono rosa… No… O frustrata… È una linea sottile devo ammettere… Perché da una parte avere uno che mi dica come fare le cose e come vivere la mia vita… È una tentazione… Cioè è una… No? Alla fleabag… Cioè è una cosa… Una tentazione fortissima… Totalmente… E il suo motto è… Ti insegno io a stare al mondo… È molto sexy… Devo ammettere questa cosa… Che è molto sexy… Mi secca molto… Ma lo devo ammettere… Devo ammettere… Perché per esempio… Andre che peraltro è molto più giovane di me… Quindi tante cose… Lui non le aveva mai vissute sulla… Di vivere da solo… Di fare… Di brigare… Però di base… Avendo avuto dei genitori molto più sani e presenti dei miei… Veniva da un background più solido… Quindi io… Ci siamo io e lui che ha confronto… Io faccio le cose alla survival mode… Capito? Cioè le ho dovute imparare per sopravvivere nel mondo… E quindi le ho fatte… Esatto… Va bene… Male… Tardi… Eh… Però le ho fatte… Esatto… Lui mi guarda e mi dice… Ma scusa… Ma perché quello l'hai fatto male… Se devi fare quello… Fallo così… Guarda che si fa colà… E la mia risposta è… Porco zio… Allora fallo tu… E… Bellissimi siparietti di armonia… E quindi… Lui ti ha insegnato… Ah no… Comunque a fare… No lui… Il come… Cioè… Devo ammettere… Io le facevo… Magari a lui non gli viene di farle… Ma il come farle… Nel come farle… È molto più sul pezzo di me… Cioè… Se lui fa una roba… Cioè… Tu come pulisce lui il lavandino… Io è una cosa che detesto… Perché tu… Hai lavato i piatti… Ti rimangono tutti quei pezzettini di schifo… Schifo… Però… E poi… C'ho le manine… Non ho queste manine per fare quello… Cioè… Capito… Ecco… Lui… È passato Dexter… Cioè… Se lui fa i piatti lui… Cioè… Capito… È tutto sterilizzato… Non c'è una briciola di pane bagnata… Appoggiata da nessuna… È una roba pazzesca… E quindi… È una differenza… Però che lui… Sono sicura… Non ti verrà… A spaccare il cazzo con l'Uminol… Se tu lo fai… Dicendo… Guarda che c'è… No… No… Non lo fa… Perché… Io sono dell'ariete… Ed è stato accolto… In più di un'occasione… E qui… Sai… Io sai come mi sveglia la mattina? Sara… Puoi venire un attimo? No… Allora… Tu non hai capito niente… Però tu te devi giocare in… Perché tu non le fai però… Io sono immediatamente nel trauma… Immediatamente… Proprio diretto… Cioè… Trenino giapponese nel trauma… Tipo… E tipo… Cos'è sta succedendo? Adesso… Non possiamo passare da veramente… Uomini in sel, Gianfranchi basici… Che non sollevano la tavoletta del cesso… A quelli che ti svegliano con Sara… Puoi venire un attimo… C'è una via di mezzo… Sara… Puoi venire un attimo che… La lavastoviglie non l'hai caricata nell'ordine svedese… No… Sara… Puoi venire un attimo… E c'è lui in questa scena… Da Dexter… Da CSI… In cui con una specie di lente… Con il faro che punta sul muro… E fa… Cos'è questo? E c'è una macchia… Ti giuro… Così… Sì… Che nessuno avrebbe mai visto mai… Ma no… Magari… Può essere qualsiasi cosa… Ma… Questo penso che sia… L'olio per i capelli… Puoi metterti… Ecc… Ecc… E poi… Da lì poi… Tutte considerazioni molto più ampie sul… Io non so stare al mondo in generale… Cioè… È sempre così… Però… Comunque… Dato questo background… Me ne vado all'esse lunga… Capito… Dicendo… Questa volta farò finta di avere un marito che non commenta la mia spesa… Che ho tutti i soldi che voglio da spendere… Infatti ho fatto una spesa incredibile… Ma ho capito anche una cosa… Che l'economia in realtà… Allora… L'esse lunga… Perché funziona? Aspetta… Perché ci stiamo andando un attimo… Però… Siamo andate con… Forse non posso fare sponsorizzazione dell'esse lunga… No… Chi se ne frega… Figurati… No… Dicevo che però… Il presupposto è che sei andata… Mi dicevi prima però… Incarnando… Io sono andata anche… La traduzione… Mi sono messa una giacchina… Ho messo le scarpine… Cioè… Non ho le scarpe col tacco… Perché andare a fare la spesa… Poi tornare con le scarpine… Ho pensato come una traduzione… Quindi comunque mi sono messa le scarpe da ginnastica… Che sapevo un po' di desperate housewives… Ok… Un filo… Sì… Tipo… Appena finito la personal trainer… Cazzo ne so… Pilates… Vado a fare la spesa… Mi sono fatta… Per la prima volta in vita mia… La lista… La spesa… Eh… Che secondo me è Threadwife… L'ho anche concordato… È Threadwife… Ho concordato… Infatti io… Spero me… Saperi cosa andare a comprare… È… 45% dello stress… Stress di fare la spesa… Assolutamente… Anche perché… Su cosa ha fatto i soldi Caprotti… Se… Caprotti è il fondatore… Sì… Su cosa hai fatto… Sul fatto che tu entri… Sei il milanese… Che ha… Oh… Sto gestendo una start-up… Ho sette figli da otto famiglie… Che cazzo sta succedendo… Ho litigato anche sul tram… Entro all'Esserunga… Ho la bulimia d'acquisto… Compro tutto… Compro tutto… Ma la Threadwife non può fare così… Perché comunque i conti… A fine del mese… Un bilancio a cui rispondere… Un bilancio… Un bilancio… Prodotti che le scadono… Che devono essere poi gestiti in una determinata maniera… Devono far parte del suo organigramma… Certo… Cioè la Threadwife verrà… Verrà valorizzata in base al… Il radicchio che non fa marcire… Il formaggio che non fa scadere… Cioè… E l'occulatezza delle offerte… La capacità di offrire un piatto sempre vario… Perché non puoi fare sempre la stessa roba… Eh no… È brava… Capito… La mozzarella te la giochi… La mozzarella fatta la mattina fresca… Te la giochi una volta… Poi dopo… Per altri sei mesi… Eh… Capito… No… Ma anche perché poi… Devi organizzarti… Come per lavarsi i capelli… Cioè… Devi organizzarti i giorni della settimana… In cui sai… Quel giorno li fai lievitare questa cosa… Quell'altro giorno fai… Quell'altro giorno fai la crema di nocciole… Quella… Devi giocartela un po' così… E in tutto questo si inserisce il grande… Nemico… Frenemi… Nemico amico della… Della Threadwife… Che sono le offerte speciali… Perché… È vero… È vero… Perché da una parte c'è la convenienza… Ma dall'altra… Non puoi cadere nella trappola… La Threadwife secondo me… Non cade nella trappola… Non cade nella trappola… No… Ne fa una… Ogni tanto… Se proprio ha un grande progetto in testa… Dice… Questa è la mia occasione… Ma prima ne parla con Dio… Cioè… Prima è proprio tutto un dialogo… Come dire… È il caso che io faccio questa cosa… Quindi non ne parla con suo marito… Ne parla con Dio… Non può disturbare suo marito… Per queste cose… Non è un apporto paritario… Scusa… Hai ragione… E comunque è patriarcato… Perché se ne parla con Dio… C'è sempre un essere superiore di sesso maschile… Che deve dirle cosa deve fare… Ma può anche parlare con la dea del Threadwife… Non so come sia fatta la dea della Threadwife… Deve essere… Della ballerina Sfarm… È… È un signore… Perché è un mormone… È un mormone… E quindi su quello… È… Vi sconvolgerò… E vi dirò che io… Da quando ho scoperto la spesa online… Difficilmente mi troverete in un supermercato… Raga… Perché… A tutti… Così ti togli quell'ultimo piccolo piacere della vita… No… Fare la spesa… Eh… Nella mia personale lista… Cioè fatemi… Non lo so… Davvero pulire… I sanitari… Non il bagno… I sanitari… Ma la spesa… È una cantina dei comacose… Che dice… Fare la spesa mi fa bene… No… Io non ho mai avuto dei veri e propri attacchi di panico… Ma i principi di un paio di attacchi di panico… Mi sono venuti… In entrambi i casi… Al bancone di uno supermercato… C'è troppa vita… C'è troppa vita… C'è troppa realtà… È la gente… È la gente… Ma sei fuori… Io non vado quando c'è gente… Eh… Ho capito… Ma in generale… Comunque scusami… Fare la spesa ti mette troppo… A confronto con tutti i tuoi demoni… Perché c'è i disturbi alimentari… La gente… L'ansia sociale… I soldi… La gestione… È vero… È vero… È vero… Non ci avevo mai pensato… Ci vuole una salute mentale… Non indifferente… È vero… Devi avere tutte le tue cosine a posto… Non puoi andarci… Io non ce le ho… E quindi… Se posso evito… No… Io invece vado in… Come si dice… In piloto… C'è divento uno zombie… E sto lì e guardo… Wow… Gli ingredienti di questo struccante al melograno… Wow… Però lì… Capito… Non è il fare la spesa… Cioè… Mercoledì… Probabilmente ti… Non lo so… Ti farebbe un TSO… Cioè… Se lo fai come… A livello avventuristico… Antropologico… Come hai fatto in questo caso… E puoi fare tutti i tuoi ragionamenti… Trarre tutte le tue conclusioni… Vagare con la mente… Ce la fai… Ma se fosse… Sara… Hai un'ora e mezza… Tutti i mercoledì… Dalle nove… Non so… Dalle nove… Dalle dieci… Sì… Hai totalmente ragione… Uscirei da lì… Col bazooka… Sì… Cioè… Tipo… Minacciando tutti quanti… Livello dieci… È della scala Spears… Sì… Senti… Dato che… Come al solito… Divaghere… No… Che in realtà è tutto super interessante… E… E ha tutto molto senso… E ho sottovalutato moltissimo… Abbiamo… Tra l'altro ripeto… Forse dovremmo fare addirittura… Una puntata… Vi leggo le vostre mail… Che sono quelle in cui… Senza parlare dell'argomento… Leggo i contributi… Perché… Questo qua… Come… Potevamo… Aspettarci… Apriti cielo… Disagi… Cioè… Coniugali… Cmi era la gestione del… Eh… Nos ragazzi… Io qua sarò stronza… Apri… 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 Apri le gabbie… Sì… A sto punto… Sì… Ah… Sare Star La stronza… È qua oggi eh… Qua meno eh… Polemiche… E… Giorge… Anzi è Giorge Ron… Il mio disagio casalingo Soprattutto il mio compagno… Purtroppo è l' L'argomento principale dei nostri litigi… La maggior parte del carico mentale della casa l' ho sempre avuto io… Perché a lui delle faccende di casa non è stato insegnato nulla e indovina chi ha toccato il ruolo dell'insegnante? Spoiler a me. Posso fare solo editing del testo prima? Indovina chi è che si è preso il ruolo dell'insegnante? Vai avanti. Io sono d'accordo con te, però dobbiamo premettere che è difficile se hai una cura della tua casa, hai un desiderio di cura delle tue cose, rinunciare a dirgli oh brutto interdetto, questa cosa si fa così, ma perché non ci pensi che la pastumiera vada svuotata ogni tanto? Cioè è molto faticoso. Per quello che secondo me servono dei periodi nel selvatico per imparare ad apprezzare la merda, così stare lì e dire vabbè non mi succede niente se anche fa schifo tutto. E infatti dice aspetta, cominciamo da quattro anni ho dovuto sudare 3.899.000 camicie per insegnargli come fare le faccende e sopportare la sua weaponized incompetence. Tra mille e mila scuse, eh ma tu sei più brava, eh ma tu lavori meno ore di me, eh ma tu non ti accorgi di quello che faccio. Devo ammettere che ho migliorato molto in quattro anni, però tutt'oggi non mi capacito di come non veda certe cose che magari sono sporchissime o da mettere in ordine. Sembra che abbia i salami sugli occhi. Io non sono una persona fissata con l'ordine il pulito e molte volte lascio anche correre, ma il dramma arriva quando inevitabilmente quelle due volte all'anno, attenzione perché questa è pesantissima, arriva la suocera a casa nostra, pronto polizia. Ovviamente per mia suocera suo figlio è l'esemplare di essere umano più perfetto della terra, quindi qualsiasi difetto che riguarda la casa è ovviamente colpa mia, perché le donne devono occuparsi di pulire bene e gli uomini no. Questa cosa mi fa impazzire tanto da pulire ossessivamente fino alla perfezione ed è qua il tuo errore, ha ragione Sara. Alla perfezione qualsiasi superficie della mia casa, ma siccome sono femminista e giustamente voglio dividere i compiti 50-50, cerco di fidarmi del mio amoroso facendogli fare la sua parte. Peccato che lui è incapace veramente e fa le cose male apposta, il che ci porta ad avere litigi giganti perché io vorrei che fosse tutto perfetto. Fare la maestrina e lottare per la giustizia di casa è faticosissimo, ma sta promettendo bene quindi non perdo le speranze, anche se a volte vorrei dargli un colpo in testa. E io invece, esatto, vai Sara, di perché so già, di quello che devi dire. No, 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 ma ognuno fa quello. Allora, la prima domanda che è quella che non farai tu ma faccio io è, vabbè, perché non lo lasci, no? Cominciamo così. No, perché si amano, perché. No, fermati, ed è qui che io ti dico, ah no, no, so perché non si lasciano. Perché la sua nevrosi si aggancia alla, cioè. Alla sua, esattamente come sempre. Ok, così io posso avere qualcuno da cercare all'infinito di cambiare per tutta la mia vita, lui all'infinito non cambierà mai un cazzo e tutti vivranno felici e disponibili. Più o meno contenti, sì. Però il mio problema qui è proprio che in realtà la nostra povera George, se cambiasse anche solo un'unghia, cioè se riuscisse a tollerare, se riuscisse a guardare il mondo da una prospettiva di un centimetro più a destra, starebbe malissimo e dovrebbe confrontarsi prima con se stessa e un sacco di emozioni che hanno a che fare con, magari, cioè anche roba, no? Un po' più, un po' più giù di questo. Lascia stare quando arriva la suocera che è il festeggiamento, la grande festa di, è il grande massacro, però quella è un'altra roba ancora, cioè… Sì, lì bisogna arrivare preparati. Esatto, non prenderei in considerazione quel momento lì perché per fortuna non è la quotidianità ed è l'estremo. È uno spike di adrenalina incredibile, cioè… Però tutto il resto del tempo effettivamente… Cioè io mi sono resa… Allora, io avevo lo stesso problema, ma non tanto della polizia e dell'ordine per niente proprio, però più del fatto davvero di pormi in modo materno, no? E quindi ho detto porco zio, però se mi pongo in modo materno, uno… Cioè ci sono diversi problemi se mi pongo in modo materno… E poi quando si scopra… Per esempio, resistere a questo impulso di fare quella che la vita la sa e le cose le ha già fatte e te lo dico io come appunto… Non è stato facile perché mi ha messo appunto a confronto con tante robe mie che dovevo risolvermi. Soltanto quando mi sono fermata e ho detto ok, tu fai tu, io faccio io… C'è stato effettivamente un cambiamento finché tu… Cioè questa cosa di insegnarli troppo… Cioè tutto, sempre, comunque… È un po'… Cioè in teoria bisognerebbe dare fiducia, lasciargli il suo spazio e la sua autonomia, anche se lui è incapace in teoria. Sì, no, è che non… Cioè nel senso è proprio un modello che purtroppo io… È come… la sensazione… Nascendo in Italia… Adesso ti farò proprio un discorso da quanto siete italiane… Però è proprio per me… Il discorso è stato crescere come se io venissi dalla tribù del… Non si può dire perché sennò ci cancellano… Però come se io fossi cresciuta in un contesto totalmente… Selvaggio? Ma no, non selvaggio, ma proprio diverso da… Anche perché mia mamma è sempre stata grandemente… Siccome lavorava ed era lei da sola, cioè per lei era totalmente normale avere delle persone che ci aiutavano in casa, per me era totalmente… Infatti è quello che mi viene rimproverato costantemente, tu pensi di avere la… Così dice, l'aiutante domestica… Di poter avere lo staff… Sì esatto, a parte io avrei bisogno di uno staff sinceramente per gestire tutto quanto… Però… Ma non gestire tutto quanto il lavoro… Gestire proprio una casa… Cioè avrei bisogno di persone che mi fanno tutto… E… Perché purtroppo sono parassite in questa società… Ma dall'altra… E non ho mai avuto… Non so come dire la rimora… Il non sentirmi chi sono… Però invece vedevo tante amiche che si identificavano in questo ruolo di… Io in quanto donna… Io sono quella roba lì… E le guardavo e dicevo… Ma… Cioè… Ma davvero ci crede… Cioè… Davvero ci crede… Però se è quello che… Però se è quello che ci è stato insegnato… Lo so, ma ho capito dopo che c'erano contesti domestici in cui questa cosa avveniva… Cioè del valore veniva passato in questo modo… Attribuito… Veniva trasferito in questo modo… Cioè venivano insegnate delle robe che avevano… Forse sono anche belle, ma che cazzo ne so io… Capito? Magari tra 200 anni scopriremo che in realtà… È molto più progressista pensare che comunque una donna possa prendersi cura di una casa… Sto dicendo una bestemmia… Però ho capito? Questo è il senso anche… No… No… Brava… Perché… No… Aspetta… Non fraintendetemi… Non è che la Threadwife è sbagliata appunto… Io… Quello che… Perché mi è stato chiesto anche su Instagram… Quando ho messo… L'articolo… L'articolo… Che ne parlava eccetera… E… Non è in sé per sé sbagliato il concetto… Per me una donna può fare… La mantenuta… La casalinga… La regina sul pisello che sta sbagliata così… Con tutto intorno che le tengono i figli… Me ne frega… Proprio sinceramente… Dove poter fare qualsiasi cosa… Il problema è quando il modello che loro propongono… Non è realistico… Allora io lo combatto… Come combatto l'influencer con le Vuitton… Come combatto… Sai… I fuffaguru che ti dicono… Ah vuoi essere felice… Fai così… Cioè… Quando il modello è farlocco… Allora non mi sta bene… Allora… Il problema non è tanto se il modello non è farlocco… Il mio problema è se io ho impiantato nel mio chip… Un solo modello… Quella è una roba assurda… Un solo modo di… Un solo modo di mettermi in relazione all'interno di un ambiente domestico… E quella è una povertà culturale devastante… Che non ci credo che ti sia stato passato solo quella roba lì… Che non te ne puoi sbattere per mesi e mesi da tua casa… Ed essere una donna meravigliosa… Ma infatti è per questo che non sono realisti… Cioè non sono persone vere… E è quello che mi turba… E mi turba che vadano a dire a noi altri che ci barcameniamo tra le nostre 78 personalità… E complessità di esseri umani veri… Da quella che un giorno si sveglia… E veramente vuole mettere a posto tutto… Perché vuole stare magari in un ambiente più confortevole e pulito… Viene da un desiderio di dentro… Esatto… Poi il giorno dopo però se il cane mi ha… Ci sono i peli del cane per terra e i piatti sono nel lavandino… Non è che io perdo di valore come essere umano perché questo accade… Invece queste qua esistono per farci sentire delle merde… Per dire guarda la tua vita come potrebbe essere… Non è vero… A un certo punto il problema di questo modello culturale è che ti dà anche solo un modo di stare… Non solo di essere ma di stare in relazione con un'altra persona… Certo… Ma loro andrebbero… Se non altro esposte per quello che sono anche le Threadwives… No e comunque siamo d'accordo perché alla base di tutto… Cioè in generale che sia il fenomeno di Threadwife o qualsiasi altro trend di internet e di influencer… Pensiero critico… Sviluppiamo il nostro pensiero critico in modo da difenderci possibilmente… Il più possibile… O anche prendere quello che c'è di buono… Tipo i disegnini sul pane… Cioè quello è bello… La mozzarella fatta nel Vermont… Cioè nel senso sono cose preziose… Sì… Possibili in un universo fantascientifico del Vermont… Con lei che però ha il babbo che foraggia… Eccetera… Lidia… Lidia… Lavoro dalle 8 del mattino e rientro alle 21… E qua dimmelo se… Trovo una pila di piatti sporchi nel lavandino che palesemente non ho usato io che non c'ero… E mio marito… Ecco è questa a cui ho detto… Mi sale il crimine ma volevo dire lascialo… E mio marito è tornato a 17 oppure in smart work inserato sul divano insieme al cane stanchi morti come se avessero zappato nei campi di cotone… Indovina chi lava quei piatti… Ma poi per cucinare un secondo come si fa a sporcare tre piatti, due pentole e svariati bicchieri, coltelli e forchette… Sponsorizzo qualsiasi rottura di relazione… Ma in questo caso ti dico anche solo prima di arrivare alla rottura di relazione… Ma lasciali nel lavello… Ma che cazzo te ne frega… Ma chiuditi in un'altra stanza e resisti all'impulso… Cioè resisti alla… Resisti a quella compulsione che ti porta a indossare i tuoi guanti di lattice e a riempire di sapone quella… Cioè ma lascia stare… Ma porta alle estreme conseguenze un discorso… C'era quel video ti ricordi di quella tipa che credo sia diventato virale e il mondo per un anno secondo si è fermato… Che lei ha detto faccio una settimana senza pulire… Cioè lascio la mia casa come sarebbe se io non facessi le mie robe per una settimana… Il delirio… Poi vabbè questa c'aveva sette figli… Quattro gatti… Non lo so… Una roba… Assistenti sociali subito… Però era come quella… Quella commedia greca… La Lisistrata… In un certo punto loro smettono di scopare con i romariti come sciopero… Ah sì… Lo sciopero dell'inazione domestica… È possibilissimo… Non dico che sia efficace… Ma almeno tu ti riposi… Che cazzo ne so… Un giorno… Le cose vanno avanti… Comunque tra l'altro anche questo pensare… Anche sta roba di tenersi tutto sulle spalle… Cioè… Eh però sai… Il problema è anche che se tu sai che… Nella tua organizzazione domestica se non lo fai tu non lo fa nessun altro… Anche quella è qualcosa che pesa fortemente… Sì ma il problema della cara Lidia era finire di lavorare al 9… Te lo dico io qual è il problema… Finire di lavorare al 21… Già Lidia abbiamo un problema da prima… 821 credo sia illegale in molti paesi… Non so forse… Io persino in Bangladesh si ha visto male però… E loro hanno dei ritmi di lavoro molto più sostenuti dei nostri… Dalila dice… Io le mie ossessioni… Piego solo io i panni perché il mio compagno non li piega come voglio io… E mi parte l'occhietto ballerino se li piega come li piega lui… Lui e le sue ossessioni… Solo lui fa il fuoco e i vetri perché… Ah i fuochi e i vetri… Perché io farei spegnere pure un incendio… Non so fare i vetri perché lascia le strisce e lascia che li faccio io… Gnè gnè gnè… Vabbè però… Io penso che premiare il talento sia giusto… Tu sai fare guai… Però c'è equilibrio… Se nelle vostre ossessioni c'è equilibrio… Io faccio questo meglio e tu fai quello meglio… Dividiamoceli… Suppongo sia sostenibile… Io penso che la nostra amica… Come si chiama? Lidia… No Dalila scusa… Dalila… Dalila… Secondo me quando lei piega nel suo modo corretto il mondo ritrova un ordine… La psiche fa… Certo… Marie Kondo insegna… Michela… Io odio pulire il cesso… Vedi… Io scegliendo cesso… No spesa… Voglio urlarlo finché non muoio… Viva il tetano e le schiericchiacoli… Basta… Preferirei dar fuoco a casa o andare a pulire le scale condominali tutto il giorno… Ma non il cesso sclero malissimo… Brava Michela… Ma hai capito ma perché bisogna pulirlo il cesso? Secondo gli standard europei dell'igiene… Ecco… Poi magari secondo me stiamo esagerando anche con quella roba lì… Perché hai visto che un altro dei… Altri account che vanno tantissimo virali… Sono questi… Di questi pulitori compulsivi… E quelli che li ritrovi poi a chi l'ha visto… Subito dopo… No ma la mia domanda è… Quanti spray bisogna usare per un fornello? Ma stiamo scherzando? C'è un tizio che io seguivo ma l'ho mollato perché prima mi rilassava poi mi ha fatto venire l'ansia… Cioè lui non è che fa… Ciuff ciuff… Spugnetta… Pannetto e via… Tre volte i fuochi… Ma che roba è? Cioè… Tra l'altro coi fuochi… Cioè… Disinfetta il fuoco… Di suo… Fa… Bruciando… Disinfetta… Ma quello è fetish lo sai? È fetish? Durissimo anche… Sono fatte apposta… No ma sono fatte proprio per eccitare certa gente che si eccita in quel modo lì delle pulizie… Sì eh… C'è… Ah… Ok… Ti devo chiedere di valutare insieme a me se il disagio da Threadwife… Se è… Vivi e lascia vivere o vero… Eh vabbè… Queste stanno bene così… In fin dei conti fanno le loro cose da Threadwife… Non è che ti vengono a casa tua a infarinare il piano di lavoro… Anche sti cazzi… Oppure è stata accorta… Nel senso… Però… Tante menti giovani e non solo… Vengono influenzate da questi account che sono… Prendono… Adesso magari poi passerà la moda… Però se non sono loro… Sono quelle… Io sono femminista… Mi piace mettermi le gonne… Eccetera… Scusate… Io non sono femminista… Io non sono femminista… Mi piace mettermi le gonne… Oppure… Quindi… Attenzione… Perché sono pericoloso… Disagio esistenziale… Che credo che abbiamo… Dove siamo arrivati noi… Cioè… No… Il mondo sta per finire… Moriremo tutti… E sopravviveranno… Le Threadwives… Gli Incel… Non lo so… Adesso… Non me ne viene in mente nessuno… Forse quelli che vanno in palestra… H24… Quelli che vivono con le proteine… Ma io non è grande trapasso… Le vivo come tipo Indiana Jones… Che è venuta a salvarmi… Cioè… Io sono veramente felice… Che siano tornate a dirci… Non dovete andare al lavoro… State a casa… Cioè… Io le sto vivendo veramente… Come delle eroine… Basta alimentare un sistema produttivo… Capitalista… Folle… In cui noi dobbiamo essere… Ma lo alimentano lo stesso loro… Ah no… C'è pure la Threadwife… Versione… Incapace… Allora… No… Quelle che mi sono arrivate all'occhio… Come dici tu… Gira o che ti rigira… Il pane poi lo vendono a New York… Eh… Fanno il detersivo in capsule biodegradabili… Che poi vendono su Etsy… Quindi… In realtà… Cioè… Non è che… Si veramente… Esulano da un… Come quelle che dicono… Mollo tutto… E vivo in un camper… Che… Di base… E monetizza… E monetizza… Allora vaffanculo… Scusa… Non ho capito… Eh… No… Aspetta… Per chiudere… Cioè… Nel senso… Siamo iniziati… Profondissimo… Perché sono venute… Di nuovo a dirci… Ragazzi… Siete sicure… Di voler stare… Al dodicesimo piano… Di un orrendo grattacielo… A farvi… A farvi… Tendere le imboscate… Dal collega… Sessuomane… Che comunque ha i problemi… Con la cocai… Cioè… Nel senso… Siamo sicure… Di voler stare… A contatto… Così tanto… Con il mondo… Dell'ufficio… Quando potremmo invece… Prenderci il caffè… E chiacchierare… Ma abbiamo fatto noi… Cioè… Noi siamo fondamentalmente… Le Thread Wives… Mieti… Mieti… Pelose… Pelose… Però… Di nuovo… Ponendo il problema che dici tu… Cioè… Guarda che… Il tuo 9 to 5… È una merda… Che ti mette… In condizioni… Di vita… Inumane… Stressanti… E… Terribili… Ok… E guarda che… Se… Il tuo guilty pleasure… È fare la focaccia… E fare così… Con le dita… Nelle bolle… Ma fai sta cazzo di focaccia… Capito? Cioè… Nel senso… Puoi anche… Cioè… C'è anche questo… L'estrema gioia… Del mettere le tendine orlate di rosa… Alla finestra… E dire… Oh… Questa cosa l'ho fatta io… Mi dà soddisfazione… Ho ricamato… E sono felice… Secondo me… La Threadwife… Nella sua apparizione tipo cometa… Ce lo sta rivelando… Dicendo… Guardate ragazzi che… Lo sappiamo che vi piace il colore rosa… Quello che dici tu… Ci sono quelle che lo fanno… Ed è sacrosanto… Perché davvero… Non è che ci dobbiamo negare… Ogni aspetto del nostro essere donne… Femminile… Eccetera… Per dimostrare qualche cosa… Qualcuno… Il problema delle Threadwife… Che secondo me… Ti nascondono… Gli aspetti negativi… Capito… Il mio… Il mio… Ma cos'è… Il culo… La fatica… Eh… Brava… L'oppressione maschile… Esatto… Quello è… La grande truffa delle Threadwife… Che ti… Io sono d'accordo con te… Che una donna deve poter sposare… Piuttosto che stare davvero… In un… Ufficio grigio… Con degli uomini schifosi… Che le fanno battute… Sessiste… E fare… Ha ha ha… È molto meglio stare a casa… E fare la torta da zero… Cento per cento… Senza ombra di dubbio… Ma… Non mi… Non mi nascondere… Che per stare a casa… E fare la torta da zero… Ci sono tutta una serie di sbatti… Che ti devi fare… Enormi… Perché loro quello che ti fanno vedere… È solo… La gioia infinita… Di nutrire la mia famiglia… Con i frutti della mia terra… E della… E del… Non lo so… Del sourdough… Allora… Diciamo così… La figura del Gesù Cristo… Per noi… Sarà una Threadwife… Che però… Può mandare a fanculo il marito… Quando vuole… Può andare a farsi i giri… E fare… Ah… Viaggi… Oppure… Non lo so… Impazzire… Rompere tutto… Va bene… Quella sarà la venuta della grande messia… Io me l'aspetto un giorno… Però sicuramente… Per me… Partirà… Dalla focaccia con le bolle… Cioè… Partirà da lì… Capito… Col suo godere… Col suo godere… Nel fare delle cose… Che veramente… La fanno proprio stare bene… Perché non riappropriarsi di quella cosa lì… Invece che distanziarsi… Riprenderla… E dire… Ma sì… Ma guarda… Mi ci… Mi ci ritrovo… È nel… È… Godo anche di quella cosa lì… Poi… Non so quale possa essere… La forma di liberazione ulteriore… Però sicuramente… L'autosufficienza alimentare… Come mi insegnano i complottisti di QAnon americani… È… È una via possibile… Io l'ho sempre… Infatti ho sempre detto… Che io… Se domani arrivasse l'apocalisse… Le mie essere emancipata… Femminista… Eccetera… Non sopravviverei cinque minuti… Eh no… Zero… No no… Non ho chance… Anzi… Lasciatemi morire per favore… Perché anche pensare di fare lo sbatti… Di provarci per un mese e mezzo… A sopravvivere senza… Medicina… Poi ci viene veramente la scabbia… No… Brutto… No… Grazie Sara… Grazie Sara… È stato… È stato… Faticosissimo… Stimolante… No… È stato stimolante… Perché… Avevo come al solito sottovalutato… Il fenomeno della Threadwife… E tutte le sue sfaccettature… Eh… Però ti ringrazio per averci sottoposto… Il tuo punto di vista… Che quindi… Ufficialmente… Threadwife… Wannabe… Cioè… Non solo Wannabe… Per favore Threadwife… Portami via… Sì… Threadwife… Toglimi da queste ambizioni di carriera… Che sono stupide… Non servono a niente… Dove ti possiamo trovare… Su Etimo Fuggente… Però non posto più da mesi… Cioè… Non c'è più voglia di tirare su quel profilo… E ho visto che sei in shop però… Ho fatto cosissimo i social media… Ma no… Ma non c'ho voglia… Proprio… Però… Chi lo sa… Però sì… Etimo Fuggente… Comunque… Presto sui vostri schermi… Eh… Più che sui vostri schermi… Nelle vostre orecchie… Con… Un progetto insieme… Però non diciamo altro… La legge mistero e suspense… Anche per noi… Che vogliamo alimentare… Vogliamo alimentare… Che sarà il progetto del 2024… Oltre la Threadwife cosa c'è… Ci siamo noi con il nostro… Nuovo progetto… E io vi ringrazio di averci ascoltato… Vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Instagram e su Facebook… Io sono VEE Tridente sia su Instagram che su TikTok… Detto questo… Alla prossima… Al prossimo disagio… Bye… Bella… Avete ascoltato il podcast del disagio… Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle… Una produzione Gli Ascoltabili… Grazie a tutti… Grazie a tutti…